Dalla Liguria liberata, eccoci, siamo noi che abbiamo fatto l'impresa, la Lega Nord Liguria ha compiuto l'impresa, il Colosso Rosso è stato abbattuto e come abbiamo fatto? Lavoro, impegno, serietà, la concretezza dei militanti, dei sostenitori e l'aiuto di Matteo Salvini che ha fatto una campagna elettorale straordinaria tra la gente. A parlare di cosa? Di lavoro, di mandarvi ai clandestini, di pensare al futuro della nostra gente. Noi abbiamo preso il voto della gente di buonsenso, non di destra, non di sinistra, non del nord e del sud, solo della gente che voleva cambiare le cose ed è una sfida immensa. Sette consiglieri, il 20%, siamo il primo partito della coalizione di centrodestra e ci faremo valere per i voti che abbiamo avuto anche nei confronti degli alleati, perché non abbiamo paura di niente e di nessuno. E dopo la Liguria però ci aspettano grandi sfide perché non è finita qui, dopo la Liguria c'è Genova, Genova a capoluogo, anche quella città, la nostra città ha bisogno di cambiamento, basta lasciarla in mano ai centri sociali, bisogna far vivere i cittadini onesti e con Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Giovanni De Paoli, Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli, con questa squadra vinceremo anche a Genova. Grazie Pontida, viva la Liguria, liberata!